Ci troviamo oggi ad Ostia e incontriamo l'onorevole Angelo Bonelli, presidente dei Verdi. Con lui vogliamo parlare di una battaglia che è sempre stata la sua battaglia, quella di garantire il libero accesso al mare a tutti i cittadini e che in questi giorni è diventata una campagna mediatica presente su tutti i giornali. Varchi sì, Varchi no, Sentenza del Tarre e quant'altro. Qual è la verità in realtà? Innanzitutto noi vogliamo dire proprio la verità da questo punto di vista. Il mare ad Ostia, come tanti cittadini sanno, non solo romani, italiani ma anche stranieri, non è assolutamente un mare dove è visibile. C'è un lungo muro e non un lungo mare, una cementificazione nel corso degli anni è stata realizzata attraverso una tolleranza sia del centro-sinistra che del centro-destra che ha consentito ai balneari di occupare tutte le spiagge libere possibili del litorale. Questo che cosa ha provocato? Ha provocato il fatto che il cittadino non è nelle condizioni di poter andare al mare liberamente se non paga e questo è il tema fondamentale. Nel 2006, tra l'altro, con un mio emendamento alla Camera dei Deputati, è stata approvata una norma che dice che è fatto obbligo per il concessionario garantire il libero e gratuito accesso per il raggiungimento della battigia anche ai fini della balneazione. Ebbene, questa norma non è stata mai applicata perché un cittadino, nel momento in cui arriva alla battigia viene cacciato, viene cacciato, non può fare il bagno e c'è quindi una lesione forte di questo diritto. Noi oggi diciamo una cosa al sindaco, gli presentiamo una lettera, una sorta di vademenco con delle cose da fare per liberare il mare veramente dal cemento perché il varco è un falso problema, si può accedere da qualunque parte, il problema è che quando arrivi la battigia viene cacciato via e dobbiamo fare in modo che il cittadino possa arrivare alla battigia a fare il bagno. Ma un'altra cosa molto importante è sempre la norma di legge che dice che è obbligo per il Comune di Roma realizzare un piano che riequilibria il rapporto tra spiagge libere e spiagge in concessione. Oggi l'85% delle spiagge sono occupate da stabilimenti e quindi è necessario che si arrivi in un riequilibrio. Arrivando a riequilibrio si risolveranno molti problemi e io penso che non è una utopia arrivare a dire che Ostia possa diventare come Copacabana o Ipanema in Brasile dove il mare è libero, tutti vanno, fanno il bagno, se vogliono pagare i servizi li pagano ma nessuno gli può impedire di andarci o di non andarci e comunque sia il tema principale è proprio quello di liberare il mare da questo lungomuro o brobbioso perché stai a Ostia ma potresti stare in qualunque parte perché il mare non lo vedi. Ieri l'assessore Isabella, l'assessore della legalità e trasparenza di Roma Capitale ha dichiarato che è pronto anche a revocare delle concessioni. Io penso che l'assessore Isabella fa bene, infatti vogliamo anche sostenere la sua azione e vogliamo credere che vada fino in fondo e quindi gli daremo tutto il nostro supporto. Noi da tempo diciamo che c'è una necessità e nessuna amministrazione l'ha voluto fare di controllare la corrispondenza tra il titolo concessorio e il titolo autorizzativo edilizio per verificare se sono esatti, identici, in sintesi che cosa significa per chi ci sta venendo, per capire se sono stati fatti ampliamenti edilizi non registrati perché in questo caso allora la legge prevede in maniera chiara che si deve andare verso la revoca della concessione. Però questi controlli non sono mai stati fatti. Noi sollecitiamo questi controlli anche perché questo potrebbe essere un elemento per ripristinare il mare e liberare il mare dal cemento. Come vedi invece l'accordo che è stato sottoscritto ieri con i balneari, con la federazione dei balneari che si dice pronta ad aprire personalmente i cinque varchi quindi senza il bisogno delle ruspe in alcuni stabilimenti importanti e soltanto uno spot pubblicitario? Guardate io penso che su questa vicenda dei varchi è veramente un corso, una campagna mediatica perché il vero problema oggi è il libero accesso al mare e per farsi anche il bagno. Cioè tu puoi accedere da qualunque parte, il problema non sono i varchi. I varchi sono necessari come la legge prevede quando tra un ingresso e un altro dello stabilimento c'è una indistanza così enorme che rende necessaria per favorire il cittadino di raggiungere il mare ma il mare lo puoi raggiungere da qualunque parte, nessuno ti può cacciare e questa occupazione indebita e illecita che è stata fatta negli anni va fatta a cessare e quindi voglio dire che se il varco diventa una sorta di passaggio pedonale che quando arrivi alla battigia vieni cacciato la domanda che faccio a chi oggi la porta così con grande enfasi è dire ma allora che cosa serve il varco se se arrivo alla battigia poi vengo cacciato? Un'ultima domanda onorevole, lei ha parlato di un emendamento approvato a sua firma che riguarda appunto il libero accesso alle spiagge per quale motivo ad esempio i vigili urbani o chi per loro non fa rispettare questa legge? Perché in Italia il grande tema è quello dei controlli l'assenza dei controlli favorisce un meccanismo clientelare e purtroppo anche in questo caso c'è stata un'assenza dei controlli che ha favorito l'illegalità perché quando non si controlla i furbi vincono e la persona per bene ci rimette